Caro Cardinale Zuppi, ho letto il comunicato della diocesi di Bologna con cui lei nega che l'11 giugno la messa celebrata a Budrio fosse per benedire una coppia gay. Secondo lei si trattava invece di una messa di ringraziamento per il gruppo in cammino che accompagna le persone con tendenze omosessuali. Caro Cardinale, non è vero e lei lo sa benissimo. Noi abbiamo già dato prova fotografica di quanto è avvenuto a Budrio. Pietro e Giacomo si sono uniti civilmente in comune, poi attraversata la strada sono entrati in chiesa per la messa che suggellava religiosamente la loro unione. Lei lo sapeva benissimo e l'ha autorizzato. Sulla bussola trova anche la partecipazione inviata via whatsapp da Pietro. Può negare quanto vuole ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo dunque capito qual è la sua strategia, caro Cardinale Zuppi, portare avanti la rivoluzione antropologica facendo finta che sia in linea con il magistero. Purtroppo non è l'unico nella chiesa, ricordi soltanto una cosa, si può mentire agli uomini ma non a Dio.